Tu sei uno dei discepoli? No, non lo sono. Gesù, quanto starà là dentro? Non lo so. Sei un discepolo, ti ho visto al Bosco degli Olivi. No, non è vero, io non ero al Bosco degli Olivi. Giurerei che eri con questo. Io non so di che cosa stai parlando. Non sono seguace di quest'uomo. Non so di che cosa stai parlando.